Vanta milioni di visualizzazioni sui suoi principali canali social e più di 100.000 follower. Lui è Valentino Alessandrini, giovane violinista, compositore e produttore marchigiano che sta spopolando sul web, unendo musica e natura. 29 anni, laureato in violino al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha raggiunto la bellezza di un milione e mezzo di visualizzazioni in pochi giorni per l'ultimo video nel quale si esibisce interpretando due vite, l'ultimo successo di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Circa 60.000 like ottenuti con oltre 23.000 condivisioni. Valentino, dove è stato girato il video e quando è nata l'idea di esibirti in mezzo alla natura? Il video è stato realizzato la scorsa settimana, è stato girato a Marina di Campofilone, nelle Marche ovviamente, io sono marchigiano, e fa parte del mio progetto musicale che si chiama Violin Covers, che sono tutti questi brani moderni arrangiati e suonati da me al violino. Quindi l'arrangiamento sia della base musicale sia del mio strumento è stato fatto da me e questo progetto appunto è nato per sensibilizzare i giovani ma le persone in generale alla musica e al mio strumento e faccio quindi tutti questi video nei posti più belli delle Marche, perché io sono ecco molto legato alla mia regione e poi li carico sui miei social network. Che le ha trasmesso questa passione per la musica e in particolare per il violino? Io mi sono appassionato alla musica da giovane, da molto giovane, avevo circa sei anni, ero innamorato del cartone animato della Walt Disney e gli Aristocatti, dove ci sono tutti questi gatti randaggi che suonano il jazz e così i miei genitori hanno iniziato a regalarmi degli strumenti musicali giocattolo della Bontempi e collezionavo tutti questi strumenti, avevo la tastiera, la tromba, il sassofono, però questo marchio non aveva diciamo un violino, quindi non produceva un violino giocattolo, così che i miei genitori decisero di regalarmi un violino vero, ovviamente misura da bambino perché ero molto piccolo e da lì mi sono avvicinato a questo strumento. Dagli studi alla professione qual è il suo lavoro e quali sono i progetti per l'anno in corso? Il mio lavoro principalmente è quello appunto di fare eventi pubblici e privati, appunto eventi musicali e concerti. Poi oltre a questo diciamo di contorno faccio anche altre cose come per esempio il professore di violino alle scuole medie e poi ho uno studio di registrazione dove faccio appunto arrangiamenti, composizioni, mixing, mastering e registrazioni però ecco il mio lavoro principale comunque rimane sempre quello appunto degli eventi che faccio generalmente un po' in tutta Italia e a volte anche all'estero. In questi primi mesi dell'anno, ha proseguito Valentino, pubblicherò altri video musicali, poi da aprile inizierà la serie di eventi. C'è un brano, un video che lei ha realizzato a cui è particolarmente affezionato? Il mio cavallo di battaglia tra virgolette è Something Just Like This, dei Coldplay, che è un brano che è andato anche molto bene sui social e amo particolarmente quel brano, amo particolarmente i Coldplay, quindi è un po' il mio portafortuna, quindi sicuramente è quello. Ci salutiamo con quel video.